Perché non assomigliano invece a quei preduni che di notte aggrediscono le donne indifese? Qualcosa, Hagen? Fratello, non abbiamo nessun motivo di credere che il re Attila ci voglia aggredire. Ma io non penso ad Attila, è a Crimilde che penso. Crimilde è nostra sorella e il tempo guarisce le ferite. Comunque abbiamo scorte di vivere, le nostre guardie sono in allarme e siamo pronti a ogni avenienza. Pronti a espiare le nostre colpe. Pronti a batterci. Pronti a uccidere. Tu vivi solo per quello, zio. Il delitto è di casa in Burgundia. E anche la cattiva coscienza. Rudiger e Jungi sono davanti alla rocca. Hildegund, è arrivato tuo padre. Mio padre è qui. Sta entrando nel castello. Padre! Padre! Non sono preparata. Il mio abito, presto. Aveva promesso di venirci a trovare un anno dal nostro matrimonio e ha mantenuto la parola. Scortato da uno in armi? Per quale motivo? Se viene da valguardo di Attila l'ha mandato Crimilde e da Crimilde non possiamo attenderci nulla di buono. Re Gunther! Rudiger, amico mio, benvenuto a Borms. Padre! Mia carissima figlia. Le confidenze a più tardi. Ora dimmi, Rudiger, che messaggio ci porti? Porto buone notizie per tutti, Gunther. Il figlio di re Attila e della regina Crimilde compie in questi giorni i tre anni e si prepara a ricevere il santo battesimo. Attila e la regina daranno una grande festa e pregano tutti voi di intervenire. Sarete i benvenuti alla...